Qui i problemi continuano. Prima la trascuratezza dei nostri malati, adesso è arrivata fino a noi familiari. C'era stata data tanto tempo fa una sede per noi familiari, per i nostri incontri, per i nostri confronti. Non ce l'abbiamo più, non si sa perché e per come l'abbiamo persa. Chiuso a causa della pandemia, il centro di auto mutuo aiuto è ancora inaccessibile. Ai familiari dei soggetti in cura al centro Alzheimer Margherita Fano, con l'inaugurazione della struttura nel 2014. Era stata infatti aperta anche questa piccola sede dedicata non solo alle associazioni, ma anche alle persone che potevano contare su un luogo di ritrovo. Il centro di auto mutuo aiuto era stato donato dalla fondazione Carifano al Comune, che però non ha ancora risposto ai familiari dopo gli appelli lanciati nelle scorse settimane. Non c'era motivo che i familiari, con tutte le difficoltà che hanno, dovevano venire a manifestare per richiedere un immobile che non è di proprietà della labirinto, però è stato donato proprio alla gestione dell'auto mutuo aiuto e alle gestioni dei familiari. Ma è una sede che utilizzate anche voi come associazione? Sì, veniva poche volte, però venivamo per quanto riguardava l'incontro con i familiari, se c'erano delle problematiche da chiarire. Però non abbiamo mai avuto difficoltà e la sede è stata sempre aperta. Ad appoggiarsi a questa sede da circa due anni c'è anche il gruppo dell'Aimafano, l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer, che nel tempo ha svolto diverse attività con le persone affette da questa demenza degenerativa. Sono state fatte delle riunioni anche con i psicologi dell'ASL, in cui si sono fatti dei gruppi molto importanti per i cardiver e noi vogliamo continuare a lavorare sul territorio, avendo questa sede come riferimento importante e chiediamo al Comune che ci dia ciò che ci spetta. Ci siamo trovati a discutere delle problematiche a cielo aperto, ha poi aggiunto Lucia Bilancia, che già lo scorso anno aveva portato avanti la battaglia per la riapertura del centro Margherita dopo il primo lockdown. Voglio una risposta da chi è di dovere, perché è successo questo e perché uno deve arrivare così a tanto per essere ascoltato e per ottenere quello che ci appartiene. I familiari li abbiamo messi con i malati, tutto uno scarto, tutto proprio un menefreghismo. Cioè questa società non ci può trattare così. Io non voglio essere trattata come un morto che cammina. Io sono un familiare e lotto ogni giorno con un malato in casa. E non chiedo tanto, chiedo quello che mi è stato donato.